A spartire la torta, intanto ringrazio Jorge Solis che ci ha aiutato a fare chiarezza su questa storia, ha detto la sua verità e ha messo riflettori su certi passaggi che erano ancora un po' ambigui. Però mentre eravamo qua durante questo passaggio ha chiamato, e ho qui al telefono il senatore Massimo Mallegni, sappiamo Massimo Mallegni aveva ricevuto delle email dal dottor Stefani perché il dottor Stefani voleva sollecitare, fare intervenire la protezione civile e la struttura di Arcuri e quindi voglio chiedere, ci ha chiamato perché voleva fare una specificazione. Allora, senatore in linea parla attraverso il mio microfono, questa è una storia abbastanza preoccupante, che cosa vuole dire? No, la storia è particolarmente preoccupante perché quando Stefani che è un mio amico, ci conosciamo da tempo, ci chiamiamo in provincia di Lucca tutti e due, mi ha segnalato la questione delle mascherine, era un periodo dove le mascherine non si trovavano e quindi io diligentemente da senatore della Repubblica ho preso la carta intestata del Senato e ho scritto al Presidente del Consiglio sulla sua mail privata, ho scritto al capo della protezione civile e ho scritto a Arcuri non una, non due, ma più di una mail nelle quali gli segnalavo questa questione. Risposta? Risposta? Loro non mi hanno mai risposto, mi ha telefonato Arcuri, mi hanno telefonato lui personalmente e mi ha detto che i tecnici della sua struttura hanno ritenuto quell'offerta non particolarmente vantaggiosa e quindi avrebbero guardato a tutti. Io mi sono indignato perché sapevo... Ecco, va bene, ecco, quello che stava dicendo, mi spiace l'ho messo giù a dire, però è stato molto chiaro. Poi magari lo inviteremo la prossima volta quando ci occuperemo di questi passaggi, però vorrei chiudere questa fase perché adesso devo passare a un'altra storia molto delicata e molto importante che stiamo seguendo da tempo. Qui noi non accusiamo nessuno, però credo che un programma televisivo come il nostro che è entrato su questa vicenda abbia diritto ad avere delle risposte, ma non per noi, per gli italiani, perché un miliardo e duecento milioni di euro sono usciti dalle nostre tasche. E chi ha la famosa torta che è stata spartita può essere stata anche spartita in modo legale, benissimo, ma noi vorremmo saperlo, se è stata spartita in modo legale, se era giusto spartirla. Questo è importante. Vi chiedo scusa perché adesso devo passare a un altro tema, quindi ringrazio dottor Stefani.